. Gianna Nannini, la cantante annuncia una nuova data a Firenze . I fan non stanno più nella pelle, il 27 ottobre uscirà Amore Gigante, l'attesissimo nuovo disco della cantautrice italiana più rock di tutte, Gianna Nannini. . Intanto, la cantante decide di regalare agli ammiratori una bella notizia, l'aggiunta di una nuova data alle quattro iniziali, quindi i concerti di Firenze diventano due, il 6 e il 7 dicembre 2017. . Le date e le info sui biglietti Gianna Nannini aveva già comunicato la nuova data del 30 novembre all'Erds Stadium di Rimini, da cui partirà ufficialmente questa serie di concerti evento. . Le altre date sono quella del 2 dicembre al Palalottomatica di Roma, il 4 dicembre Gianna canterà al Mediolanum Forum di Assago, Mi, e poi la cantante si trasferirà nella sua Toscana per una doppietta al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 6 e 7 dicembre. . Finora è stato possibile acquistare i biglietti solo per gli iscritti al fan club, a cui Gianna dà sempre una priorità. . Gli altri potranno provare ad accaparrarsi uno dei biglietti per le quattro date a partire dalle 11 di sabato 14 ottobre, sia sul circuito ticatone che nei punti di prevendita abituali. . I prezzi partono da 34,50 euro per la data di Rimini e 29 euro per le date di Roma, Milano e Firenze. Gli indizi sul nuovo album. . Nei concerti, sarà dato largo spazio al nuovo album della cantautrice toscana, Amore Gigante, che uscirà il 27 ottobre. Il disco è stato anticipato dal singolo Fenomenale, già in rotazione da alcune settimane. . 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